Oggi sono arrivati e stanno sbarcando in totale 105 migranti, provengono dal Camerun, dalla Nigeria e dal Mali. Sono presenti 8 donne in questo gruppo, 11 minori, la restante parte sono uomini. Le condizioni sanitarie al momento, finora, sono nella media. Le condizioni sanitarie, ricordiamoci sempre che si tratta di persone che hanno affrontato una lunga traversata in condizioni non proprio ottimali. Sono stati salvati appunto da questa nave mercantile e che certo prima di imbarcarsi hanno alle loro spalle una storia che è fatta di privazioni, di sofferenze, di tutto quello che nel tempo abbiamo imparato a connotare i lunghi periodi di permanenza prima del tempo di salire sul barcone. Verranno sistemati, secondo lo schema che abbiamo adottato ormai da mesi, presso le strutture parrocchiali messe a disposizione dalla Caritas. E da lì, dopo le prime fasi che riguardano appunto sia le persone, e cioè essere rifocillati, dopo questo primo momento in banchina dove facciamo sempre trovare un sacchetto con dei primi viveri, dicevo verranno rifocillati, potranno usufruire dei servizi igienici e quindi avere anche un cambio di vestiario, poi nei prossimi giorni saranno avviati presso le strutture che esistono in provincia. 5 migranti hanno riconosciuto che ci sono 11 minori e non accompagnati, quindi queste strutture per me non accompagnate attraverso il comune di Palermo. Gli altri andranno al centro di primissima accoglienza di Villaggio Ruffini, quindi questo centro pastorale che noi, come Caritas di Cesana, mettiamo a disposizione per le primissime ore. Quindi faranno il fotosegnalamento alla pastura, all'istituzione di San Lorenzo, in migrazione, e poi vi porteranno al centro di Villaggio Ruffini. E credo che già da domani verranno trasferiti nei CPA. Ci sono già, sappiamo benissimo, anche per la Caritas di Cesana, ma anche altri CPA sono a disposizione, e quindi credo che andranno gli stati entro domani, verranno trasferiti nei centri di Villaggio Ruffini. Abbiamo in un chiesto di accogliere questi nostri materi migranti. Certamente il peso e la stranchezza di quattro mesi di inattività, ma fino adesso tutto tranquillo, tutto sereno. C'è soltanto l'inizio di impatto, che credo sia normale per noi di persona, ma nelle ore successive si crea questo rapporto bellissimo in relazione con questi nostri talenti. Grazie a tutti.